Quando è stato ascoltato la prima volta della giunta per l'autorizzazione del senato Antonio Azzolini è andato a braccio criticando e attaccando l'azione promossa dalla procura di Trani. Nella seconda audizione il senatore Azzolini ha portato i documenti, una memoria di una decina di pagina in cui ha appuntato nuovamente l'indice sugli inquirenti e sottolineato che la norma al centro dell'inchiesta che secondo i magistrati avrebbe favorito la casa di cura della divina provvidenza portava la firma degli allora relatori in commissione Paolo Tancredi del PDL e soprattutto Giovanni Legnini, PD, attuale vice vicepresidente del CSM. La difesa di Azzolini sostiene che la ricostruzione fatta dalla procura di Trani sia assiomatica, fantasiosa e indimostrata. Il riferimento ai relatori, soprattutto a Legnini, sembra un messaggio anche se in diretto al Partito Democratico che in giunta farà la differenza. Se è scontato infatti il voto a favore dell'arresto dei parlamentari pentastellati così come il voto contrario degli esponenti del nuovo centrodestra, Forza Italia e PSI, la posizione dei membri PD della giunta è ancora tutta da definire. Dopo le dichiarazioni a caldo del senatore Felice Casson che escludeva la presenza di Fumus Persecutionis e difendeva l'ordinanza, altri parlamentari PD si sono mantenuti su una linea più neutrale e attendista. La senatrice Pezzopane ad esempio ha dichiarato di voler valutare le carte e di escludere una posizione politica del partito. Alcuni senatori ritengono che non ci siano i presupposti per l'arresto anche perché molte delle accuse si riferiscono esclusivamente al ruolo di Azzolini come presidente della commissione bilancio dove i provvedimenti venivano votati a maggioranza. Il presidente della giunta Stefano presenterà la sua relazione conclusiva il primo luglio ma già il 29 giugno è atteso il verdetto del riesame.